Sono passati dieci anni, abbiamo il dovere della memoria. Ci sono tante persone che hanno perso i loro cari, che rivivono in questo momento una grande sofferenza. La mia presenza qui è la testimonianza che la ferita della comunità locale è una ferita della comunità nazionale. Lo ha detto ieri all'Aquila il Premier Giuseppe Conte, intervenendo nella fiaccolata della memoria, dieci anni dal tragico sisma. Conte ha incontrato poi Vincenzo Vittorini, il medico chirurgo che quella notte ha perso moglie e figlio, che è tra gli organizzatori della fiaccolata come componente del comitato familiare delle vittime. La prescrizione, quella già vuol dire molto, è già un primo passaggio significativo dal punto di vista normativo. Dico anche la verità, un altro intervento che ritengo significativo in questa direzione è anche il piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio, con rischi del distesso idrogeologico, con rischi sismici. Ci abbiamo lavorato tre mesi nel periodo autunnale, anzi di più, e poi l'abbiamo varato a marzo. Quello è proprio volto a prevenire, la prospettiva della prevenzione di questi esistenti. E' quello il motivo per cui ci imbattiamo. Paradossalmente è più facile ricostruire strutturalmente una città che ricostruire l'aspetto sociale, l'aspetto umano delle persone, perché è molto difficile questo. Però se le comunità, tutte, partendo da una tragedia come l'Aquila o dalle altre che le ho detto prima, si facessero tutte unite per combattere una battaglia di civiltà, bene, forse miticheremmo le tragedie che probabilmente continueranno ad accadere. Alle 22.30 circa è iniziata la notte più lunga per il capologo di Regione, un'onda di luce disegnata dalle fiaccole ha illuminato la città che porta ancora i segni e le cicatrici di quella tragedia emmane. Così all'altezza del tribunale è partita la fiaccolata nella memoria, segnata la silenzio e il raccoglimento bagno di folla con le migliaia di persone che ne hanno preso parte. L'unico rumore era quello dei passi e degli aquilani che si sono messi in cammino per ricordare e ricominciare ancora una volta dopo dieci anni. E il silenzio ha fatto scorgere quel vuoto che il terremoto ha lasciato nelle case sventrate dal sisma, ha fatto riflettere le istituzioni su cosa è stato fatto e cosa dopo dieci anni c'è ancora da fare. Ad aprire il corteo è stato lo striscione con i nomi delle 309 vittime e con la scritta per noi, per loro, per tutti. Il corteo si è fermato lungo la casa dello studente dove morirono otto persone per attraversare tutto il centro storico, ammirare poco prima anche la coreografia allestita dagli oltraquilani e approdare in piazza Duomo dove sono stati letti i nomi delle 309 persone che dieci anni fa non ce l'hanno fatta. Sono stati quindi eseguiti 309 rintocchi al campanile della chiesa delle anime sante dove subito dopo è stata celebrata la santa messa ufficiata da cardinare arcivescovo dell'Aquila Giuseppe Petrocchi. Massiccia è stata la presenza delle istituzioni in guida della premier Conte, la presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio ma c'era anche il sindaco per Luigi Biondi, l'ex Massimo Cialente la deputata e l'ex presidente della provincia Stefania Pezzopane il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti la senatrice Gabriella Di Girolamo la consigliera regionale Antonietta Laporta e a rappresentare il comune di Sulmona la delegazione composta da Luigi Biaggi, vice sindaco Katia Di Marzio, presidente del Consiglio Elisabetta Bianchi, consigliere poche parole, tanto silenzio dieci anni dopo con tanta voglia però di continuare a rinascere